essere in grado di competere ad armi pari e poi qualcosa su cui stiamo lavorando da settimane che riguarda tutti, perché poi gli agricoltori sono cittadini italiani, i giornalisti sono cittadini italiani, i taxisti sono cittadini italiani, un forte taglio delle tasse a partire dall'anno prossimo per chi vive in questo paese, che riguarda produttori e famiglie e sarà un bel confronto con l'Europa, non dico scontro ma un bel... preparatevi, io sono già pronto, la pazienza del pescatore ce l'ho, preparatevi ad alcune settimane di discussione, però io dico molto serenamente che se ce lo faranno fare sorridendo lo faremo, se diranno non fatelo lo faremo lo stesso. Bene, vedremo, allora...